150 mila euro di danni quasi qui, ha tirato dritto da lì? penso che roba, ho mai visto una roba del genere si mette una98gela, si mette un po' con la cucina si mette una coppia ma si mette un po' con il buon appartamento e l'occasione della caccia eccovi capito, questa è la nata esegu kong Grazie a tutti.